buongiorno ragazzi nessun dramma perché la stagione è appena iniziata però si incomincia a entra a vedere qualcosa ovvero sia si incomincia a capire che le seconde linee sono lontanissime dalle prime eh bisogna capire che Lautaro Martinez e Turam non sono dei cyborg non si fermano da un anno e non possono giocarle tutte purtroppo ieri ho visto un tridente da brivido da da spegnere la tv Taremi Arnautovic Correa Taremi che liscia la palla Taremi Taremi ragazzi io ve lo dico cioè io sono stato criticato qualcuno mi ha anche offeso Taremi in centosessanta minuti non ha mai tirato in porta contro Genova Lecce e Monza Genova Lecce e Monza zero ti importa un attaccante Arnautovic lo sappiamo Arnautovic tira ieri e rompe il finestrino di un appunto parcheggiata fuori allo stadio Correa che che si ingarbuglia da solo purtroppo davanti siamo quelli lì lo sappiamo tutti davanti non c'è un degno sostituto della Tula non ce n'è uno non ce n'è uno e si avvicina ad un quaranta per cento ma anche lì purtroppo abbiamo quelli quelli dobbiamo come Zieliski Zieliski non corre inutile che la gente continua Zieliski è un giocatore in grandissime difficoltà fisiche da circa due anni se chiaramente è molto bravo sa battere le punizioni sa fare gli assist Zieliski non lo vedo mai in mezz'ala del tre cinque due di Zaghi perché non ha forza non ha resistenza non ha fase difensiva Zieliski lo deve mettere un migliore di sera quasi dietro le punte gli ultimi venti minuti e mezz'ora non è un calciatore ormai cioè Zieliski è a fine carriera ma proprio perché mh ebbe un problema al cuore diciamo anche se proprio non era un problema al cuore ma Zieliski negli ultimi anni è un giocatore in calo drastico a livello fisico ed è sempre stato un calciatore ibrido ha avuto quell'anno spettacolare a Napoli ma calciatore mai stato costante sono questi eh gli acquisti ragazzi quando eh io purtroppo dio e ci sono quattordici giocatori buoni ecco sì e per quelli che critano che criticano ancora Danfris perché c'è gente che critica ancora Danfris ad averci gli giocatori come Danfris lo so che non è Cansello non è Achimi ma te non devi guardare solo i giocatori saltano perché ieri ritornando al discorso dei tredici quattordici giocatori buoni che abbiamo titolari abbiamo quattordici titolari ieri è mancato il cambio gioco veloce destra sinistra è è mancato il cambio gioco veloce destra sinistra che è quello poi ci contraddistingue da tantissime altre squadre Aslani male molto male deve spostare la palla molto più velocemente non ci riesce più senza Cervi senza Cialanoglu e senza Bastoni in costruzione noi valiamo molto ma molto poco soprattutto quando vai a dei ritmi blandi e non ha i ritmi a mille all'ora perché se non vai a mille all'ora senza gente salta l'uomo diventi prevedibile non c'è da fare nessun dramma perché secondo me il campionato siamo sempre più forti però avrei fatto delle scelte diverse cioè io punterei a vincere il campionato sinceramente non la Champions League perché dove vuoi andare il Champions League fammi capire gli attaccanti che ho visto quel tridente da mani nei capelli che ho visto ieri quel tridente da mani nei capelli che ho visto ieri nessuno di quei tre sa tagliare alle spalle di difensore sa fare un gol di rapina nessuno nessuno e c'è gente che prende quattro milioni lì davanti quei tre davanti prendono quattro milioni a testa e attenzione attenzione costano sette otto milioni lordi all'anno solo di ingaggio e attenzione attenzione quindi nessun dramma però io avrei magari messo subito la formazione titolare avrei cercato di vincere e poi dopo invece ieri Zaghi fa un gran turno e purtroppo ragazzi io lo capisco anche l'allenatore e non puoi far giocare sempre gli stessi ma la tura la stai strizzando un asciugamano il problema qual è l'è che se te togli quei due tre giocatori la squadra ha troppo dislivello non puoi non ti puoi permettere di togliere due tre giocatori se togli Cialanoglu difficilmente riesci a giocare a calcio se togli i bastoni che è l'altra fonte di gioco e tra l'altro attenzione perché hanno già incominciato a fare la doppia schermatura quando ci incontrano su Cialanoglu e su bastoni che sono le fonti di gioco gente salta l'uomo non ce n'è davanti non lo so dimmi te davanti oltre la fula chi c'è perché poi i fuorilassi nei tornei dei bar sono un conto ma io voglio vedere quando conta io voglio vedere quando conta tipo ieri contava entra Denzel e fa gol è quello che bisogna guardare non i tornei dei bar perché noi teristi purtroppo d'agosto sotto l'ombrellone abbiamo vinto decine di scudetti poi cominciava il campionato e facevamo ridere lascialo perdere il calcio d'agosto lascialo stare non è stato fatto non è stato fatto quasi mercato quest'anno quindi cosa pretendi da questi ragazzi che c'è solo da ringraziarli questi ragazzi qui con questo mercato dove vuoi andare con i cinesi una parte di scherzi anzi cioè ma senza mercato ma ma che pretendi possiamo lottare il campionato sì ma poi le altre quattro competizioni prendiamo quello che viene ma io infatti quest'anno e non mi smettisco prendo quello che viene senza arrabbiare basta però questa squadra non si può permettere di togliere due tre giocatori tutti insieme perché poi diventa una squadra non ti dico normale ma molto ma molto ma molto meno forte ciao inter